Gentili telespettatori, buona giornata. Anch'io seguo le novità di Striscia alla Notizia su, chiamiamolo il caso, Aboubacar Soumaoro, che è quel deputato con gli stivali in prestito, non erano mica sua, glielo avevano prestati per fare la scenata che entrava in Parlamento con gli stivali anche sporchi, glielo avevano prestati, uno che veramente ci lavorava con gli stivali, perché lui non ci ha mai lavorato, anche se ha simulato con dei video che lui faceva al bracciante, invece non ha mai fatto, erano tutti video finti ovviamente. Ma a parte questo, nuova puntata di Striscia, nuova inchiesta, tornano ad occuparsi del deputato con gli stivali. Nella puntata proprio di lunedì 23 gennaio, Canale 5 accende la luce sulla raccolta fondi, lanciate dalla Lega Braccianti, dal deputato e veicolate dalla piattaforma GoFundMe. L'ex esponente di Verdi Sinistra Italiana, nel dossier difensivo, lo stesso in cui ha tentato di rispondere ai dubbi sollevati da Striscia la Notizia, ha ammesso che GoFundMe non ha evidenziato irregolarità nella ricezione dei fondi e nella distribuzione dei beni. Eppure, come mostra Pinuccio di Striscia la Notizia, non è proprio così. Questo GoFundMe, rivela Antonio Ricci, l'inviato di Striscia la Notizia, ha sospeso le raccolte e rimborsato le donazioni recenti con due anni di ritardo. E lo ha fatto solo qualche giorno fa, dopo che è andato in onda il servizio di Striscia, in cui è stato dimostrato, con una donazione fatta da Striscia, che la piattaforma accettava ancora soldi, nonostante le manifestazioni per cui venivano raccolte si fossero svolte due anni prima. Qualcosa non torna. Quando all'improvviso questa piattaforma rimborsa i soldi anche vecchi di due anni, perché è venuto fuori un servizio su Striscia la Notizia, vuol dire che c'è qualcosa che non torna, giusto? Se no non corri a rimborsare i soldi, anche di due anni fa, dopo un servizio di Striscia la Notizia. Vuol dire che c'è qualcosina, se mi permettete, di strano. Io ho la mia idea, molto ben precisa, molto ben precisa, però è una mia idea che non posso dirla perché se no si trasformerebbe in una calunnia, cioè in un'accusa di un qualcosa di illegale che non posso fare perché è una mia idea e non è un fatto reale, quindi io non posso comunicare via social una mia idea che comporterebbe l'accusa a un'altra persona. Quindi mi limito a dire che ho dei leggerissimi sospetti che hanno anche a Striscia la Notizia. La domanda che si fanno a Striscia la Notizia sono queste le domande. Come sono stati spesi questi fondi raccolti per la pandemia? E perché in alcune città tipo Pescara gli aiuti promessi non sono mai arrivati? E ancora, a chi sono stati consegnati i ragali della raccolta di Natale 2021 destinati ai bambini di Torretta Antonacci e Borgo Mezzanone, dove non ci sono bambini? Come mai il rimpatrio della stessa... è stato utilizzato come giustificativo di due raccolte diverse? Due raccolte diverse per fare un rimpatrio. Due raccolte diverse. Insomma, dice Striscia la Notizia, qualcosa ancora non torna. Ma probabilmente, qui ne sono quasi sicuro, la Guardia di Finanza starà facendo delle indagini anche su questo. Se dovesse venire fuori qualcosa di legalmente rilevante, la Guardia di Finanza, tramite la magistratura, chiederebbe l'autorizzazione a procedere al Parlamento contro questo deputato, che poi se il Parlamento dirà sì, probabilmente, sicuramente, vanderà a processo. Sempre che, come vi dicevo prima, questi dubbi che ha Striscia la Notizia non diventino qualcosa di reale, però per diventare qualcosa di reale deve essere la magistratura e non delle supposizioni. Quindi, le supposizioni di Striscia la Notizia rimangono tali fino a quando non c'è una scoperta, che può essere della magistratura, ma anche di Striscia la Notizia, perché se dovesse scoprire qualcosa Striscia la Notizia, la magistratura poi non potrebbe ignorarlo. Funziona così. Quando i media tirano fuori qualcosa e viene conclamata, poi la magistratura non può più far finta che non esista e deve aprire delle indagini. Funziona così anche in questi casi. Bene, vedremo come va a finire. Io intanto c'è un altro video che parla sempre di Soumaoro su Teleitalia, sul primo canale, e quel video parla proprio della Guardia di Finanza e della Procura di Latina, che in gran segreto stanno compiendo altre indagini su tre comuni, sui rapporti tra le cooperative di questa famiglia e i comuni, questi rinnovi, senza appalti, eccetera, eccetera. Quindi sono aperte delle indagini anche per capire dove siano finiti tanti soldi. Quindi lasciamo lavorare gli inquirenti, gli organi inquirenti, gli organi investigativi e sono sicuro che se c'è qualcosa di illegale oltre quello che già sappiamo sicuramente verrà fuori perché le tecniche investigative italiane sono di altissimo livello. Su questo non ci sono dubbi. Quando procure, finanze, agenzie delle entrate si concentrano su una cosa prima o poi viene fuori tutto, assolutamente tutto. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi auguro buon proseguimento di giornata, ci vediamo al prossimo video, ricordatevi di là sul canale Teleitalia, quello principale, dove ci sono molti più video, qua su Teleitalia Seconda Rete e ce n'è uno solo, mentre di là ce ne sono molti di più ogni giorno. Ecco, i video di questo canale Teleitalia Seconda Rete e Teleitalia vengono poi condivisi nella pagina di Facebook che si chiama Teleitalia, dove se vi sono interessati li potete tranquillamente condividere, farne quello che volete e che realmente non me ne può fregare de meno. Ecco, vi saluto e mi raccomando, guardate anche la rassegna stampa che è qui nella community del canale, sempre, ogni giorno c'è la rassegna stampa che faccio sull'altro canale, ma qua nella community di questo canale potete schiacciare sul link e vedere la rassegna stampa. Grazie a tutti e arrivederci a presto.